nella semifinale di strafactor siete pronti sembra di sì le abbiamo un po decimati li stiamo spiaccando due minuti non prima della sigla e si parte amici questo è il programma del secolo dove vedrete i concorrenti sfidarsi per una posta in gioco che è la più alta nella storia di qualsiasi gara televisiva strafactor il programma che vi terrà incollati al divano tre giudici paolo giovannetti ammetto che mi piacerebbe catturare la fascia d'ascolto dei ragazzi ci serve come il zanni broccoli il birro di romagna la scelta della strada da seguire stanno silvia stefanini questo programma i dati di ascolto li farà impennare quindi ora provate a sorprendermi conducono andrea sarti la sua genialità 5 sogni verranno realizzati superando ogni aspettativo solo uno si frattumerà per sempre 50 concorrenti in gara queste sono le persone migliori che possiate incontrare selezionate dopo innumerevoli provini in tutto il paese e alla fine dovrà restarne soltanto e questo sarai tu la sua grande ecco l'ora che piace è lo sciapo ah ah se batti le mani sei felice muore domani ah ah se hai felice tu lo sai batti le mani se hai felice tu lo sai batte i piedi Fabio Ok Ciao Fabio Fabio No sta circunnavigando il tavolo E' possibile fermarla perché se no Fabio poi non lo teniamo più Non lo teniamo più Allora buonasera al pubblico da casa Siamo giunti lo abbiamo detto prima L'ho detto poc'anzi Ecco questa è già tutta un'altra Atmosfera Respiriamo Siamo giunti poc'anzi Cioè siamo entrati di diritto con questa puntata Nella fase semifinale di Strafactor Assolutamente si Saranno quattro i cantanti che si avvicineranno Questa sera ai nostri microfoni Dopodiché ne rincontreremo altri quattro Due verranno Usciranno da questa sera Due dalla volta prossima E poi gran finale Ti confido Andrea che sono anche un po' emozionato Stasera Sì? Come mai? Eh perché è stato un lungo percorso Quello di Strafactor Abbiamo ascoltato tanti cantanti E stasera la crème crème Dei cantanti che abbiamo conosciuto qui Esatto Abbiamo il crème caramele Guarda Senti che applauso E questo è un budino Non è il crème caramele Cos'è questa cosa? Vabbè 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 E dicevamo gran finale Poi lo andremo a fare negli studi Quelli televisivi E non quelli radiofonici Qui di Radio di Caro Rubicone Ma Andremo in trasferta Andremo negli studi televisivi Quelli veri Caro Fabio Quelli veri della campanella Quindi ci inquadrano anche i piedi? Ci inquadrano anche i piedi Pensa Io di solito vengo qua in Bermuda Sì perché vedi Guarda Sotto non si rendono conto Sotto la maglietta niente Sotto la maglietta niente Infatti È per quello che ogni tanto Qualche cantante rimane un po' così E non è riuscito a dare il meglio È vero Hai ragione ragione Allora diciamo stasera Quattro cantanti E allora andiamo subito a conoscerli Eccoli qua Facciamo una bella Esatto Una bella inquadratura di insieme Quelli qua Guarda come è di insieme Mi sposto il microfonino Ecco Allora abbiamo Laura Posone Ciao Laura Tutto bene? Laura stasera in trasferte Cioè lei è venuta dalla Spagna Vedi? No infatti vedo Questa sera con il fiorellino In testa Guarda stasera È una puntata internazionale Perché dopo Laura Che viene dalla Spagna Abbiamo Ilaria Dall'Estate Uniti d'America Ilaria Venerdì giusto? Venerdì è compiuto No quando? Sabato Ha compiuto 18 anni Ma invece anche Fabio Caldari Settimana scorsa Ha compiuto 19? 19 anni 19 anni Grazie 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 Compleanni come se piovesse E poi abbiamo la nostra Cautar E poi Lui è rimasto Ti ricordi Gian Maria Gian Maria Lui è stato in gita In Germania Lui era andato a Berlino Allora direttamente a Berlino Gian Maria Rossi E poi abbiamo un'altra ragazza Che Da dove Scusa Chi sei? Chi sei tu? Ah la sorella di Gian Maria Direttamente Anche lei perché evidentemente è una moda col fiorellino in testa Cioè questa sera proprio è la moda del fiorellino Mi vuole non averlo anch'io Noi abbiamo un cactus Io effettivamente stasera ho un po' questo ciuppo Ananasso Mia moglie prima di venire qua in studio mi ha guardato perché noi purtroppo siamo poveri E non abbiamo come gli altri programmi televisivi che si rispettino Il nostro peraltro non viene rispettato proprio da nessuno né tantomeno dai sottoscritti E ci dobbiamo pettinare da casa perché qua non abbiamo neppure una spazzola per farlo qui La doccia me la sono fatta da solo Mi sono lavato la schiena da solo Penso Penso un po' Penso un po' E niente mi ha visto con questo ciuffo e mi ha dato del deficiente Magari la prossima volta Vieni con la riga da una parte la prossima volta Comunque un applauso anche alla sorella di Gian Maria Come ti chiami? Sorella di Gian Maria Direttamente dalla stessa casa Jessica Ok ok allora abbiamo conosciuto tutti quanti i cantanti I cantanti che stasera veramente daranno il meglio di loro stessi Perché la puntata è veramente hot E beh perché lo abbiamo detto prima Due di loro cioè chi vincerà questa serata andrà di diritto nella finale di Strafactor Eh sì 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 Come come caro Andrea Anzi chi sarà Chi saranno i giudici Chiameranno di decretare questi cantanti? Ma allora prima di andare ai giudici Vorrei ricordare invece della possibilità di votare da casa Perché me lo ricordano qui sul monitor E se me lo ricordano qui sul monitor Vuol dire che bisogna dirlo È assolutamente sì Hai ragione Allora vi ricordiamo che da casa potete votare il vostro cantante preferito Componendo il 334 39 22 995 Digitate sul vostro telefonino e inviate il messaggio con il nome del vostro cantante preferito Ovviamente il nome dovrà essere uno dei quattro qui Perché se è un altro non vale Facciamo un esempio Andrea Sarti Esatto Andrea Sarti no Cioè deve essere uno dei cantanti Quindi ho già Maria Ha speso un soldo inutilmente? Sì effettivamente sì Era un attestato di stima Esatto Grazie Fabio Sono soldi spesi benissimo E guarda Sta già venendo lì sopra In sovrimpressione Il nome del cantante preferito Votatelo al 334 39 22 995 Ricordiamo i nomi Gian Maria Cautar Ilaria E Laura Ok 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 Allora però mi hanno fatto un segno Sì no Sì Che segno t'hanno fatto? Hanno fatto Sì mi hanno fatto T'ha fatto così No Cosa dici? Sì volevo dire che attraverso i vostri messaggi potete esprimere ovviamente la preferenza Ma potete dire anche la vostra perché il messaggio può contenere oltre che il nome magari qualche cenno in più Cioè magari che ne so Fabio sei bellissimo E Andrea pure Vabbè Stasera complimenti a Iosa A bestia A bestia E quindi potete scrivere tutto quello che volete Ma un altro modo per interagire con noi non è solo quello degli sms Ma è anche quello di facebook Facebook andate digitate la parola strafactor Lì vi appare la nostra pagina Lì potete interagire con noi Potete andare a vedere le foto del dietro le quinte dei vari cantanti Potete andare a vedere i video Video pubblicati nei giorni successivi alla puntata Sia su facebook che su youtube Cioè non vederci sarebbe proprio Stasera con quella malettina con la bandiera inglese Stasera dimmi facebook Facebook Sei proprio madrelingua Ehi yes Youtube Ok 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 Ma prima di andare a conoscere invece la vera giuria Caro Andrea mi hanno fatto un segno E questa volta è stato un segno bello deciso E' arrivato il momento degli Strafactor In direttata dagli studi di Savinano sul Rubicone Strafactor Stasera sono carichi a bestia Sono carichi a baghina proprio Allora Allora caro Fabio A bestia era un po' più fine Era più fine A baghina Ma è perché stiamo un po' Ci stiamo lasciando andare Ci stiamo lasciando un po' andare Allora Vogliamo ricordare caro Fabio Quelli che sono i premi Che loro Potrebbero andarsi a portare a casa Assolutamente Sì allora partiamo dal secondo posto Ovvero quello che è il cosiddetto Il premio platea E ce l'abbiamo qui Non l'abbiamo disponibile Comunque abbiamo Ah Passa Andrea Passa Pum Vai Pum Pazza Baperino Pum Pazza Baperino Eccolo qua Lo vedete Lo vedete Eccolo qua Abbiamo questo bellissimo lettore MP3 Della Sony Offerta da Emporio Informatico E se lo andrà a giudicare Il cantante Che nella finale Riceverà più sms da casa Quindi Quello cosiddetto Il premio platea Esatto Il premio decretato da voi Premio decretato 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 Stasera la puntata Internazionale È il premio cinese Il premio cinese È un involtino È un involtino Tutto fletto Benissimo Benissimo Allora ricordiamo Nel frattempo Vedete mi sono un po' smanicato Sì sì Fa caldo Fa caldo È cambiato Avete messo a posto gli orologi Tutto a posto L'avete mandato avanti Io faccio le 18.30 Ecco Sono con l'orario di Pacchino Sì esatto Però guarda Veramente puntata internazionale Tu Andrea La maglia inglese Spagna America Berlino Esatto Solo tu Sei con la testa mozzata Ci chiediamo che nazionalità No veramente Guarda La testa è la mia faccia Ah complimenti Stai da dio Sei bellissimo No ma nota le proporzioni Eh sì 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 Sei un testone proprio Grazie Allora Stasera ci avevamo messo d'accordo Devevamo fareci i complimenti No no Testone nel senso di genio Einstein a confronto Perché voi avevate inteso subito Il complimento nel testone Giusto Cioè guarda Guarda Che falsi Che falsi Esatto Allora invece Volete sapere Quello che è il primo premio Penso proprio di sì Allora la possibilità Di andare in studio Al Pro Sound Studio A registrare un brano inedito Brano inedito Grazie al quale Potrete dire la vostra Nel fantastico mondo Nel panorama musicale italiano Della musica Non contemplata fino ad oggi E noi Di Radio Icaro Rubicone E di tutte le emittenti Di Icaro Communication Faremo la promozione Al vostro brano Esatto Hai detto bene Musica non contemplata E invece vuoi sapere Quella è una canzone Molto contemplata Quale? Lo sciapò Grazie Scusa Andrea Ho fatto il numero Ho fatto il numero della cantina Perché mi sono arrivato Mi sono arrivato i messaggi E ha avuto un grande successo Lo vuoi rivedere Il numero della cantina? Andranno a fare Con la faccia Che dopo No va bene Che dovevamo Solo farci complimenti Però sei un cretino Cioè basta con questo shuffle Scusa Scusa Vado in cantina Ok Ciao Fabio E' andato giù A prendere qualche disco nuovo E bene 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 Non li abbiamo ancora presentati Ma loro sono il fulcro Del nostro programma Se non ci fossero loro Ahimè Strafactor Non avrebbe il successo Che è stato decretato Fino ad oggi La nostra giuria Buonasera Siamo qua Burdel Si stavamo addormentando A Jimmy Si presenta più a stasera Che tutti i stumi Si chi aspetterà Un tocco di finezza Da parte del nostro Gianni Ciao Gianni Come stai? Tutto bene? Tutto posto Tutto posto Siamo qua Che facciamo Gnek gnek Si rubinet Intanto che aspettiamo La puntata Facciamo Gnek gnek Si rubinet Ah ho capito Non detto Che us dice Quella tonda Ah va bene Stasera è carico pesco Gnek gnek Si rubinet No ma c'è una penna Infilata nel rubinetto Si è portapenna Zotto Che bello Ci vuole anche del polso Perché ha un notevole peso E peso E peso insomma Si Il peso Ok Il nostro Paolo Giovannetti Invece lo vedo Indaffarato A fare tutt'altro A fare tutt'altro? Si esatto Cioè mi sembra Che lei stia leggendo Il giornale Io sto leggendo Un vecchio ponte Dove ci sono queste facce Da Ecco Eccolo qua Ecco Guarda Pur di Esatto Però devo dire una cosa È che dovrebbe uscire Un articolo migliore Sul giornale concorrente Che è il cavalcavia No Le battute si sprecano No è vero Il cavalcavia esiste Ed è un giornale Che è meglio del ponte Anche più imponente Imponente Perfetto Parlano bene Se non altro di noi No dicono Ecco insomma Cioè Parlavano male Poi ho mandato Miroslav In redazione Gli ha bruciato Due tre cosine E adesso parlano bene Perfetto Mi fa molto piacere Grazie Paolo E vedo La bellissima Silvia Questa sera Veramente Agghindata Niente male Ah grazie Ah prego No volevo dire Che mi sto preparando Per la finale anch'io Sì Hai già prenotato l'estetista Tra l'altro La scorsa puntata Ne avevamo due Quindi No no Come si chiama La look La look La look Dai la look Come si chiama Dai aiuto La Personal look Look trainer Niente Inglese così a caso Quella che ti cura Nel look Un'esca Va bene Silvia si chiama estetista E prendiamola all'italiano La look Look maker Allora mi farà delle mesh Come Belen Non è una cavolata In 3D Cosa sono le mesh In 3D Praticamente Su una ciocca Di capelli Si fanno tre colori Ah wow Ma ci vogliono Come la Belen Cioè più di così Ma ci vogliono gli occhiolini Per vederle Ah probabile Esatto No perché in 3D Senti si infilano i capelli Negli occhi Ma scusa Silvia Invece chi è quel ragazzo Al tuo fianco Alla tua sinistra Chi è? È Maggiordomo Ah non sapevo di avere Non sapevo Te lo sapevi che avevamo Maggiordomo? Eh perché Silvia Da quando Da quando è venuta Qua in trasmissione Si è gasata un po' Alla grande Eh si è un po' Gasata E quindi vedi Adesso Veste come una diva Al Maggiordomo Dopo Fabio Mi fai ballare un po' Vero? Ah certo Certo Come No Dopo L'occhiale No Partiamo 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 Io vorrei partire Allora partiamo Allora Caro Fabio Però dobbiamo partire Ma prima dobbiamo dare il via Allo stra Voto Eccolo qua E allora ricordiamo che da questo momento È possibile Votare per tutti i cantanti in gara E vi ricordiamo che potete mandare un voto Da ogni numero di telefono Quindi non mandate Non scrivete Andrea Sarte Andrea Sarte Andrea Sarte Andrea Sarte Perché comunque Mi vale uno Ok? E allora a questo punto Siamo prontissimi Siamo prontissimi per iniziare Iniziare questa puntata Allora chiamiamo già la prima cantante Qui Qui nel mezzo Eh Tra noi Questa sera Caro Andrea C'è una novità Giusto? C'è una novità Non c'è la solita La solita scheda Ma come vogliamo chiamarlo Questo momento? Esatto Chiamiamolo guarda Agli occhiali Proprio del colore Allo smalto Del colore dei miei occhiali È vero Eh sì Per me è un tentativo È un tentativo di Capito? Una sviolinata Eh sì Allora come vogliamo chiamare Questo momento Andrea? Il momento della Scheda cantante Scheda cantante Strafactor Allora per questa fase Di semifinali Abbiamo pensato Che i nostri cantanti Non li faremo cimentare Con la scheda Ormai li abbiamo già conosciuti Per un paio di volte Sappiamo da dove vengono Sappiamo come cantano Insomma tutte le informazioni Che potevamo chiedere Le abbiamo chieste Nelle volte precedenti Allora in queste due fasi Eliminatorie In queste due fasi Di semifinale Chiederemo ai nostri cantanti Di andarsi a presentare In 30 secondi Voi avete 30 secondi Per raccontarci Chi siete Qualche aneddoto Magari divertente Cosa fate Insomma qualche curiosità Che fino ad oggi Non siamo riusciti A capire Attraverso la scheda cantante Perché le domande di Andrea Non sempre È come il gioco No panic Conosci il gioco No panic? Neanch'io Allora Come il gioco No panic Fabio Il gioco che ti fanno le domande E ci sono i secondi sotto Che ti passano E tu devi rispondere Senza farti prendere Dal panico Ok 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 Allora tu hai 30 secondi Attenzione Ci racconterai Chi sei Cosa fai E perché Ma se fai una pausa Verrai E eliminata Esatto Purtroppo Ahimè 3 2 1 Voi Ciao sono Cauter Sono qui per Dedicarvi una canzone Vengo da Rimini Ormai sapete tutto di me Non so come altro Farmi pubblicità Ciao No come Hai ancora nel tempo Hai ancora 28 secondi Dai vai 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 Every day I'm shuffling Parola 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 No no Non so cos'altro dire Sapete tutto di me ragazzi Basta Cioè Non è che sei Napolitano Guarda 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 Cos'è Capodanno Trafatto Ho perso la mia chance Scusate Mi sembrava Una puntata di Cacca In 30 secondi Sono passati Ma mi sembrava Una puntata di Cacca Perché mentre lei parlava Sotto c'era l'elettrocefalogramma E vedete qui con legamenti Brava Te la sei cavata bene Te la sei cavata bene Una massa Una massa Sta cercando di emulare il birro Con il dialetto Allora Cauter Sei emozionata? No sono raffreddata Infatti Infatti Mi sembrava più raffreddata Che emozionata La risposta Non era pertinente La domanda Cioè Non è che Vabbè Sì Sono emozionata Ma sono più raffreddata Però cosa me ne frega Sono raffreddore Chi se ne frega E vado a non soffiarmi il naso Durante l'intervista Concentrata lì Hai capito Fabio? Che belle immagini Che belle immagini Cosa ci canti Cara Cauter? Per sempre Di Nina Zilli No Non è che devi cantare per sempre Cioè A noi basta Tre minuti di esibizione Infatti Canterò Per sempre In tre minuti Circa Per sempre In tre minuti Circa Questa è una frase metafisica No Guarda Guarda la telecamera La alla 28 Sarà un bignami della canzone Un bignami della canzone Senti Cioè Brava Facci ancora queste così Queste similitudini Questi detti Un bignami Senti Il bignami Allora Scusa Scusa un attimo Fabio Scusate un attimo Regia Scusa Regia Buonanotte Giuria Cauterà il testo E voi sapete che Tutte le persone che portano Il testo E non riescono a impararsi Tre minuti di canzone Hanno la solita penalità Ok? Hanno preso Ma in realtà lei Siccome canta il bignami della canzone Lì è tutto un canzoniere L'avete visto? E Time's New Roman 2 Vabbè Vabbè Allora Cauter Puoi fare un appello Affinché ti possano votare Il tappeto musicale Ormai li conosci Quali sono? Rock Patetico Love Love Dai Love Allora guarda Vi prego Aspetta No Non è patetica Love Devi essere più Ehi Ehi Nonostante questo raffreddore Votatemi Vi dedicherò questa canzone Con tutto il cuore Ehi Va bene Va bene È andata abbastanza Ehi È andata abbastanza Ehi Allora noi ti facciamo Accomodare di là Con la tua per sempre Di Nina Zilli Posso? Nina Zilli peraltro Sembra il nome Presente gli strai nasali Quando hai il raffreddore E ti dai un po' di Nina Zilli Allora facciamo uno spot Ehi Andrea È il naso chiuso? È un pochettino Non riesci a respirare? No La notte sei congestionato? Sì E allora usa anche tu Lo spray Zilli Spray Zilli E vedrai Il tuo naso riprenderà da vivere Bravissimo Fabio Un applauso Gli hai convinto Così quasi me lo compro Il mio naso Incomincerà a vivere Senza già Di dimensioni Discrete A un certo punto Prende anche di vita propria Con le manine Le manine Ok Allora vedo che la nostra Cautar è prontissima E allora ascoltiamola con Per sempre Se un giorno tu Tornassi da me Dicendo che È stato un errore Lasciarmi andare Lontano 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 da te Se un giorno tu Parlassi di me Parlassi di me Sempre Perché l'orgoglio innamora C'è un limite Che sazio è solo per un istante E poi torna la fame Se un giorno tu Se un giorno tu Se un giorno tu sentissi che c'è qualcosa Che non ti sai spiegare Non ti lascia andare Non chiedere a me Neghi la verità Ora che non ti serve piangere Puoi lasciarti cadere Dimenticare Non basterà Ma illudimi che sia per sempre Non importerebbe niente Se le parole tue Mi hanno fatto male Ma tanto vale Che sta solta sia per sempre Perché l'amore L'amore è un limite Che sazia solo per un istante E poi torna la fame E so che è stupido Pensarti diverso Da ciò che sei realmente Di quello che ti ho dato Non ho avuto indietro neanche Quel minimo Per cui valga la pena Di star male Mentre affoghi nei tuoi errori E cerco di capire L'irne frenabile Bisogno di cercare amore In quel terreno Che fertile E neanche morire E invece di morire Ho imparato a respirare Per sempre Le parole tue Mi hanno fatto male Ma tanto vale Che stasera non dirò niente Perché l'orgoglio Innamora È un limite Che sazia solo Per un istante E poi torna la fame Per sempre Per sempre L'amore trionfa Sovrano Oh baby Sembravi più lo spray nasale Sennò ho un vecchio arzillo Grazie grazie Eccola qua Eccola qua Eccola qua Ne pensa la nostra giuria Nella persona di Paolo Giovannetti Ciao Eccolo Comunque come buca lo schermo Paolo Non lo buca nessuno Hai ragione E grazie al cielo direi Intanto io vorrei ringraziare Natalino Bartolini Che ci offre il ponte Della settimana scorsa Perché prima lo legge lui Giustamente E poi ce lo porta Cioè non è che stiamo lì Detto questo Che dicevo di Vitale importanza Direi che Cauta ci ha preso gusto Ha cantato bene Secondo me Dalla puntata precedente Ha ingranato Il pezzo non era bello Come quello dell'altra volta Ma pazienza L'unica cosa che rimane È questo nome d'arte Che purtroppo Io l'ho sempre detto Ci siamo anche consultati Con Gianni Drudi Che qui vediamo In una foto Di repertorio Con Michele Pecora E che purtroppo Anche lui ha detto Non è un gran che Lui suggerirebbe Chi lo cal Ok Va bene Guarda tra l'altro C'è già un messaggio Per te Cauta Dalla tua collega Amica Katia Si chiamano Tutti con la K Collega e amiche Cantante anche lei Tra l'altro Ah cantante anche lei Con la K Sì sì Ciao Katia Ciao Katia Ti aspettiamo La prossima edizione Nel frattempo In giuria Hai cascato il mondo E allora Gianni Tosti rubinette Messe E da là Sa come tocca a fare Mi tocca a scoprire Le rubinette Kauter Adesso senti Mi senti Sì Perché se no apro più La monopola Perché qui andiamo Andiamo avanti così Tipo la preistoria Ma scusate Il cameraman Dove l'avete messo Nel tubo Sì Lui è tutto lungo Nel tubo Che mi inquadra E tu sei fuori dal tunnel Io sono fuori È un pezzo che sono uscito dal tunnel Io non vorrei mica Sono quello nel tunnel Tom Vaker So qua A di la schietta Per me Ti stai sbattendo Nell'entrata Io sono passato di qui Giovedì scorso Da qua davanti E qui di fuori Uscivano quelli di assaggi di vini Ok Perché il giovedì registrano assaggi di vini Ieri in barit Medi plate Qui era un che Estrisceva Barbet Matera Ieri una gata E aveva fatto la gata Non è vero Sì Te lo posso Non è vero Allora Vorrei spezzare una lancia A favore Una bottiglia di vino Anche perché Dovranno andare domani Domani sono in servizio In nome della radio E della tv Andranno a Verona Ah Ti a dire là Si faccia là Esatto Quindi Mi preoccupo un po' la cosa Sono andato in treno però No 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 Vanno in auto Se li fermano Gli ritirano la macchina e tutto Cauter hai cantato molto bene Sei un ottimo cantante Perché agisci sul pezzo Agisci sul pezzo Agisci Agito sul pezzo Ha fatto sì che il pezzo Sia stato radiofonicamente bello A me è piaciuta Come hai cantato Non so cosa dirti Grazie Mi sono emozionato Trova una bella giacchetta Gianni Silvia Forse volevi dire A livello di interpretazione No Non scorso a te Ah va bene Qua ce la tiriamo Capito Il birro No anche per me Cauter Sei bravissima Intonazione Tutto ok Veramente Adesso Stiamo stringendo sempre di più Per arrivare alla finale Quindi siete tutti molto bravi Vedremo chi ci paga di più Vero? Dopo Non c'è la cosa Esatto È una questione economica E poi si risolve sempre lì Allora grazie alla nostra giuria Vi ricordiamo la possibilità Di comporre il 334 39 22 995 Numero grazie al quale Potete mandare la vostra preferenza Potete dire la vostra Come stanno facendo qualcuno qua Che dice della giacca cavallina del birro E potete dire la vostra Potete votare i cantanti Cosa vuoi dire? No io ringrazio la giuria Mentre parlavo Lei mi guardava e faceva E quindi Non riuscivo a capire Non riuscivo a capire se Voleva prendere la parola No 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 va bene A posto così Io sono tutta attenta così A posto così E da bere E da bere E una margherita al cielo Allora Adesso Queste cose non si dicono Non si dicono in un programma televisivo Però Lei Cioè Proprio la dà per Per persa questa sera No no Ti vedo Ti vedo così De motivata Non va bene Non stai bene Vabbè Allora ti Ecco Eeeh Vai Tieni Ok Gauda Riprenditi Perché la vita è bella Diavolo di con noi Andrea Abbracciamo Gauda Vai Aiuto Abbracciamola Respira bene Sei stata fortunata che il respiro l'hai potuto fare perché sei la prima cantante Chi è il quarto concorrente Pensa quando abbraccieremo te C'è un medico in sala Siete meglio di qualsiasi aspirina Grazie 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 E allora a questo punto andiamo avanti Andiamo avanti col concorso Dopo aver conosciuto la nostra Cautar È arrivato il momento di conoscere Un'altra cantantessa Lei viene direttamente dalla penisola iberica Caro Andrea Ha preso il traghetto questa mattina E lei risponde al nome di Chi lo sa Schede cantante Strafactor Eccola qua Allora anche a te 30 secondi per poterti presentare Dirci chi sei Cosa fai Perché sei qua Pronti Partendo È già partito No Ferma 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 Staccato Staccato Cioè Dobbiamo darle tempo Sei pronta Respira La possiamo inquadrare già direttamente così Voglio vedere proprio lo scatto Lo scatto dal blocco di partenza Ok Attenzione 3 2 1 Vai Allora ciao a tutti Hola Sono Laura Puzone O Laurita Puzone questa sera Hola Canto Besame Muccio Sono un'impiegata commerciale Nel tempo libero canto Mi piace cantare Sono sposata E tra qualche mese La nostra famiglia si stenderà Si stenderà Ferma Ferma Mettiamo in pausa Il bip Verrà battuto La nostra famiglia si stenderà Estenderà Ah Estenderà Si allangherà Si allangherà Tra qualche mese Sono in dolce attesa Ah Ah Scusa Se io già mi preoccupavo si stende la famiglia C'era una crisi coniugale Cioè dormono in piedi finalmente possono rilassare Ok Aspetta Ok Rifacciamo partire il canto Da dove eravamo rimasti Ecco vai 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 No E Eccomi Eh no Si estenderà Si allargerà E niente Strafactor Eh Tempo Cos'è È un quiz Eh mi dispiace cara Laura Eh Il tempo è scaduto Chiedo alla regia Cioè c'è modo di vedere il count in qualche modo sul video Eh no Cioè non adesso magari i prossimi Strafa Ecco Così Perché lei vorrebbe Perché lei vorrebbe Ehi Come Strafa Ma non basta Ma questo era il bambino Già esce vomitando Ok Come chiamerete vostro figlio Siamo in trattativa con mio marito Nelle trattative tra uomo e donna si sa già chi vince Perché lei vorrebbe chiamarlo Andrea lui Fabio Esatto No come Quali sono i nomi in ballottaggio A me piace Giuliano Però lui no Forse Federico Adesso vediamo O Giuliano o Federico Io so già che si chiamerà Giuliano Cioè Non c'è Per me Lorenzo Non Lorenzo Un classico Allora facciamo sondaggio Al tre Ognuno dice il nome preferito Pronti Tre Niente Non piace Nel uno nell'altro nome Degli amorfi Benissimo L'avrebbero voluto chiamare Valeriano Bene Oh Che bella Cioè Astrafactor Abbiamo anche queste notizie Esatto Esatto Quando Quando stappiamo Stappiamo lo spumante Settembre Settembre Andrea Noto Ginecologo Quando stappiamo Stappiamo lo spumante Cioè Tu quando sono nate le tue figlie Non hai stappato lo spumante In sala parto Io sì Ho fatto un party Con tutti i dottori E mia moglie è dilaniata Allora Cosa ci canti Allora Mesa memuccio Ah Mesa memuccio Allora anche per te la possibilità di fare un appello A questo punto guarda la telecamera 86 Che tappeto musicale scegli? Love 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 Ah è stasera l'amore regna sovrano Ecco Devi fare prima il sospiro così Va Andrea Ehi Sentitemi Secondo me Questa è una minaccia Sentitemi L'amore ci tiene tutti in vita Quindi Senza l'amore si inaridisce Senza l'amore si inaridisce Io vi esorto a vivere l'amore nella vostra vita Anche per delle passioni O per altre No se non delle persone Per delle passioni Per delle Per la vita stessa Aiuto Allora Laura Dopo questa cosa qui Ti vogliamo proprio bene Grazie Andrea 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 Ehi Dimmi Te lo dico dopo Fabio Assort Ti amo I love you Ma anch'io Ok Vai Laura Vai pure Vai ti facciamo accomodare di là Ti abbiamo bagattato il trucco Sì mi sa Sì esatto E tu hai bagattato Se vado a casa con sta roba mia moglie Pensa Che sia tutt'altro Un succhiotto Qui Prima qui che bello Bene bene Stasera E scusate Mi potete dare la casa Laura Ecco Questo qui Non è frutto Di una donna Cioè È frutto sì Però Cioè Hai capito Poi si chiama Laura come te Cioè Non è che Esatto Per non sbagliarsi Hai fatto bene Allora a questo punto Cari amici Siamo prontissimi Vediamo nei nostri schermi La nostra Laura Che si sta Si sta preparando Tra l'altro abbiamo messo anche dei tori Nel nostro studio Proprio per creare quel clima Iberico Certo Certo C'è anche il torero Tutto pronto Vai con Laura Punzone Besame Muccio Come si fuera esta noche la ultima vez Bézame 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 Mucho Que tengo miedo a perderte Perderte otra vez Bézame 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 Mucho Bézame 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 Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mi Piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mi Piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Básame... allora devo dire una cosa che purtroppo il pezzo non era proprio azzeccatissimo diciamocelo queste cose è triste ma è così in più c'è anche un'altra cosa da dire che non so hai tirato fuori diciamo una base d'epoca perché queste erano le prime basi che andavano sui primi sequencer che erano tipo scatoletta del tonno e si usavano ancora i floppy disk quelli ma quelli da 3,5 quelli più grossi che viscidi che facevano quasi schifo tenerli in mano e giravano su questa roba qui e questa base effettivamente è originale dell'epoca dell'epoca però devo dire una cosa che invece 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 anche Gianni Drudi che qui vediamo anche lui incinta ha detto che se prenotate la camera insieme a settembre perché si risparmia anche perché lo deve fare anche lui a settembre sai come si chiama si chiama Genoveffo Drudi naturalmente si sa già il cognome ok andiamo a sentire il nostro Gianni Gianni Broccoli beh Laura io dico che sapendo se non avessi saputo che eri incinta ti avrei detto che avresti cantato male invece avendo saputo che eri incinta posso capire le difficoltà che hai apportato durante il brano no cioè magari il bambino si muoveva e tu stonavi per andargli dietro no perché si sono sentite qualche stonatura ma tanto da preoccupare l'importante fatti un bel lavoro quando come si dice in dialetto quanto fei cioè quando fai l'importante che venga bene quello di lavoro questo non è importante no perfetto sì questo però Gianni c'è un messaggio per te la giacca del birro lo cucita io chi ne volesse una simile può verni venire venire da me con un pony no ma poverino poverino è un lavoro che parte da monte capito ora adesso gli animalisti ci faranno chiudere non glielo togliamo lo scalpo tutti in una volta si fa a pezzi ah ok prima si tolgono piccoli quadrettini dal sedere non ha capito nessuno togliete il microfono Gianni prima che sia troppo tardi Silvia Stefanini Laura anche per me questa sera non eri in grande forma ci sono state un po di stonature Silvia è come la fornero la fornero non riesce a dire sacrifici e Silvia non riesce a dire stonature adesso piangerà piangerà anche peraltro ho detto la fornero e il nostro ministro se ne ha in amale come si suol dire quindi chiamiamo il ministro fornero ok del resto cosa c'è un cellulare che sta suonando e niente Laura mi dispiace questa sera è andata un po così va bene va bene va bene Laura invece tu cosa vuoi dire della tua esibizione cosa cosa vedi invece della tua esibizione carina ma per quanto riguarda un pezzo sicuramente ero sicura che un pezzo così non portava nessuno almeno era un po controcorrente brava 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 amiamo molto questo modo di di porsi di porsi assolutamente sì allora ringraziamo Laura e andiamo a fare un po e rieccoci nuovamente qua insieme dagli studi di strafactor è arrivato il momento di chiamare il prossimo concorrente bene 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 buonasera Ilaria possiamo dire il nome perché tanto ormai ci conosciamo e proprio perché ci conosciamo abbiamo pensato di evitare la scheda cantante inutile chiederti nome cognome scusa Andrea tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a Ilaria Fabri tanti auguri a te se siamo i presentatori di un concorso di cantanti sembravamo due pastori sardi bene 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 quanti anni? 18 è maggiorenne e da domani i tuoi genitori ti butteranno fuori di casa eh già e pensa che come regalo dei 18 anni gli è arrivato una bambù è vero? sì verissimo verissimo esatto bravo Fabio fai pubblicità gratuita io ce l'ho multipla ok allora è arrivato il momento anche per te della tua scheda cantante dove in 30 secondi racconterai i 18 anni di Ilaria vai ciao a tutti io sono Ilaria ho compiuto 18 anni da poco precisamente sabato 24 frequento il liceo pedagogico Valgimigli Giulio Cesare e mi piace tantissimo cantare nel tempo libero e ahimè quando non ho il tempo libero devo studiare infatti domani ho tre interrogazioni latino storia e matematica e infatti dato che avrò 18 anni mi fermerò la giustificazione da sola ancora sei secondi vai 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 non lo stavo hi everyone no scusa io però ho sentito parole buttate lì così senza un senso you can domani lei si autofermerà la giustificazione esatto da sola esatto io ieri sera professori ero a cantare a strafactor e oggi firmo esatto domani cosa avresti? storia storia matematica latino cioè tutte sei sicura? si compito in classe? no interrogazione e cosa ti fai qui questa sera? eh vabbè oggi ho studiato ma c'è domani tre interrogazioni? tutte in una volta? si ma io quando andavo a scuola io non succedeva vabbè Fabio guarda cerchiamo di chiudere il prima possibile la trasmissione perché fuori ci sono i suoi genitori e se domani va male a me e a te ci fanno un occhio nero quindi mandiamola a letto presto ecco ok allora cari laria noi ti facciamo subito accomodare di là proprio di corsa correndo hai pochissimi secondi per fare l'appello da base? rock 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 allora guarda la telecamera 83 ok votatemi tutti altrimenti vengo lì e faccio una strage yeah ok guarda non aveva fatto in tempo neanche arrivare alla chitarra elettrica che già la gente stava era terrorizzata se no esatto se no non vi firmo le giustificazioni dopo esatto ah cioè passiamo che le firme false perfetto vabbè ma allora diciamolo solo ai suoi genitori non è un problema di 18 anni lei le giustificazioni è anni che se le firma da sola falsificando le vostre firme e ti facciamo accomodare di là così intanto finiamo di parlare noi con i tuoi genitori ma cosa canta? lo sappiamo vabbè chi se ne frega vai tanto è una canzone falsa Fabio la devono interrogare non è che possiamo star qui a a a a a fare insomma i cavillosi su quale canzone canta questa deve andarsi a letto cioè tre interrogazioni domani cioè se questa arriva strascicata ai 18 anni e mezzo non ci arriva non ci arriva sono stati andrea e fabio esatto e il professore cosa gli dice? niente gli piazza un quattro e poi andrea e fabio gli fanno un matto tanti genitori allora allora la nostra ilaria è prontissima ci canterà una canzone della quale ignoriamo il titolo ma sicuramente voi amici da casa che la vorrete votare lo sapete chissà ilaria fabbri lundica 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 anche le tieni il 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 e o c lundica lundica ed una il bulla Forever, every moment spent with you is a moment I treasure. I don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep, cause I miss you babe, but I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream I'll never do, I still miss you babe, but I don't want to miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming. I wonder if you see you're seeing, and then I kiss your eyes, and thank God we're together. I just moment spent with you is a moment forever, forever and ever. I don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep, cause I miss you babe, but I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream I'll never do, I still miss you babe, but I don't want to miss a thing. I don't want to miss one smile, I don't want to miss one kiss, but I just want to be with you right here with you. Just like this, I just want to hold you close, to feel so close to mine, and just stay here in this moment, for all the rest of time. I don't want to close my eyes, I don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep, cause I miss you babe, but I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream I'll never do, I still miss you babe, but I don't want to miss a thing. I don't want to close my eyes, I don't want to fall asleep, cause I miss you babe, but I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream I'll never do, I still miss you babe, but I don't want to miss a thing. And I don't want to miss a thing. And I don't wanna miss a thing And I don't wanna miss a thing And I don't wanna miss a thing Ilaria Fabri Brava, brava Andrea, adesso ho capito perché ha scelto questa canzone Allora, domani ha l'interrogazione story latino Story latino e, non mi ricordo, quella era l'altra materia Oh, vabbè, qualcosa Scusa, era story latino e matematica Infatti lei ha scelto la canzone di Armageddon Domani sarà veramente la fine del mondo L'ultima battaglia Prima della fine del quadrimestre È arrivato il momento di chiamare Paolo Giovannetti La botta No, quello era un'altra cosa Ok Sì, Paolo 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 Pronto Paolo Tranquillo C'è il gomito che fa contatto col piede Benissimo I nostri tecnici qui sotto cercano di mettere a posto tutto Anche te sei un po' raffreddato stasera? Sono un po' raffreddato perché purtroppo la stagione è ingannevole E io esco tutto mezzo nudo E poi dopo la sera invece è freddo E quindi mi raffreddo È vero, hai ragione Volevo dire che... Che dire? Che dire? Mi ricordo la prima volta che sei venuta qua a cantare E mi sono spaventato io quella volta lì Devo dire la verità Infatti ti abbiamo giustamente eliminato Poi invece non so come mai Per me il doping Te prendi qualcosa Perché non è possibile No, per esempio Quei ciclisti che per anni non combinano niente Un anno Vengono fuori e vengono tutto Per me è doping Però veramente anche stasera Hai cantato da Dio E lo conferma anche il grande Gianni Dei Sì A proposito Eccolo qua Ma sembra Emilio Fede da giovane Bravo Esattamente È il fratello povero di Emilio Fede E canta anche questo famoso pezzo Ti ricordi di me? No Purtroppo no Però comunque canta da Dio Anche lui Benissimo Benissimo Allora ringraziamo il nostro Paolo Giovannetti Fabio Adesso è arrivato il momento del nostro cavallopazzo Gianni Finalmente è arrivata la primavera E subito le scappure a chi muscone Chi da un dan Stamattina mi sono svegliato Se ne avevo uno qui che mi girava tra le sopracciglia Faceva Tarzan con le sopracciglia Gianni tra l'altro c'è un messaggio patetico per la nostra Ilaria sotto Che dice E voto per Ilaria ti voglio un bene che neanche immagini I love you Sophie Eh lo so è una mia amica Una tua amica Esatto Sono questi nuovi tipi di rap Che la saluta tantissimo E che so che mi segue Ciao Sophie Ciao Sophie Che poi Hai cantato benissimo Tu hai delle doti vocali potenti Perché tieni le note basse Con una potenza giusta Che fa sì che Vengano bene sia anche quelle alte Non lo so come Come cosa ho detto Pensavo ti incartassi Sì 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 Sono riuscito a uscire dal tunnel È rimasto un attimo così Perché io sono abituato a scorrere in dialetto Bisogna anche a scorrere in dialetto Non so che fassi fighetti Che ponso buono Ti canti bene dai A maniere buona fette al combo dai Per questo genere So che tessi combo non è Via Via A posto A posto Tu pensa Dopo tante ilarità Domani la caziano Con tre interrogazioni A fila E lei Gliele canterà di santa Ma devi recuperare l'aria Queste materie o vai bene? Sì Però È il giro Ma a peggiorare si fa sempre Potrebbe peggiorare E noi È quello che un po' ti auguriamo E Silvia Stefanini Anch'io sono d'accordo con Paolo Cioè la prima volta Probabilmente La timidezza Un po' Il fatto che non ci conoscessi Sei partita un po' piano E c'era Otello Infatti qui viene solo Cantano bene solo Quelli che ci I nostri amici E' una trasmissione così In famiglia Cioè non è Sto faccio Le mattine in famiglia Otello Dovete votare lei Perché sembra Con quel vocione no? Perché sembra Mina Scusate E potresti fare un attimo L'imitazione Cioè Altro che Ballantini Capito? Altro che Ballantini Con la vocina Invece no Perché lui aveva la voce Un po' più Altro che Ballantini E potresti votare lui Lei perché La sua amiglia è un po' Mina Però mi piaceva più il pappagallo Ecco perché Sì Com'è il pappagallo Silvia? Aiuto No l'altra volta che faceva Dell'inferno Dell'inferno Era Era Smeralda No no L'altra volta che c'era una in puntata che aveva cantato la canzone di Emma Di Sanremo Che diceva Inferno Inferno Scusate Possiamo staccare il collegamento Con la Giulia Molto brava Grazie Aspetta Ha nominato Otello Sì Perché avevo loro Che mi vedi Ecco qui Otello Vediamo da giovane Come dico sempre Eccolo qua Questo è Otello Otello è il bambino col berretto Otello è lui È questo Ah ok Mi fa ridere Silvia Perché fino adesso Ho avuto come posso dire Se mi è stata così compita Così elegante Stasera Mi sta Mollando gli ormeggi Va bene È l'occhiale shuffle Che fa questo effetto Sì Ancora non l'abbiamo ballato Comunque Io ogni tanto Devi dare tale via Cara Silvia Allora Ancora no Devi dire tu La parola magica Ancora no Aspetta Aspetto Va bene Aspetta Aspira Ok Ciao Silvia Ciao Grazie mille Ilaria tutto bene Sì tutto bene Ok domani andrà peggio Allora Dai a parte gli scherzi In bocca al lupo In bocca al lupo È la prima interrogazione Da maggiorenne E speriamo che No è già oggi Ma l'interrogazione Come è andata oggi Sette e mezzo Secchiona Ok perfetto Grazie Ilaria Possiamo andare avanti Sette e mezzo Io tendrei a Sette e mezzo Io tendrei a mezzo Lo prendevo Sommando due interrogazioni Allora riuscivo Di due materie diverse Assolutamente Ok 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 Allora andiamo avanti Con il nostro concorso Vediamo Eh sì Dopo aver conosciuto Tre donne Finalmente Anche il pubblico Femminile Potrà schiumare Perché è arrivato Il momento Di conoscere lui Il Nostro Playboy Scheda Strafactor E allora anche tu Hai avuto modo Di conoscere Questo nuovo meccanismo Che Dovrai applicare Tra Tre Due Un secondo Vai Ciao Ciao a tutti Sono Gian Maria Vengo da Roversanu Di Cesena Studio Alizio scientifico Augusto Righi Qui c'è mia sorella Ah non è dato amorosa Adesso la butta Hai capito Sul Io conosco lei Esatto Voglio salutare tutti quelli Che mi seguono da casa I miei genitori Canto estate Dei Negramaro Hai otto secondi Dai dai Non mollare Saluto mio cugino Marco Sì salutiamo parenti a casa Per il tempo E votatemi Grazie Strafactor Ehi 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 Ecco Eccolo qua Il nostro Gian Maria Rossi È qui Applauso Applauso Allora Gian Maria Che si è portato dietro Come le scorse puntate La sorella Jessica Jessica Fatti vedere Anche tu Ecco 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 Un applauso a Jessica Mi piace perché Loro ridono sempre Cioè Potrebbe cadere Il soffitto Sulla testa Ma loro ridono Bravi In realtà È una paresi facciale Andrea Ah ok Allora Chi è il più grande Tra voi La G La G Chi è più alto Io Gian 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 Giusto Gian 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 Mi hanno spento addirittura il microfono Io Andrea lo chiamo Hand Hand Io F F F F Han F Han Lui è la F di Facebook Esatto E lui Andrea è il Hand di Assort Allora Gian ma tutto bene? Tutto a posto La Gita è quella di quella volta? Tutto a posto? Tutto a posto Ti sei ripreso dal jet lag? Ma ancora non del tutto Infatti si vede dal ciuffo Esatto Pensa che io le ho mandato un messaggino per ricordargli della puntata E siccome lui era evidentemente in Germania il credito mi è andato giù di 26 euro Ce l'ho mandato un messaggio e mi si è ritraschile Pensa quanto ci costa averlo qui in trasmissione Cioè avessimo avuto Michael Jackson nei tempi migliori ci sarebbe costato meno Tra l'altro sei stato sfortunato perché No fortunato o sfortunato? Sfortunato perché mancavano 2-3 chilometri Al confine? Al confine quindi Ti stai anche bullando di sta cosa? Esatto Benissimo giuria meno 4 punti per questo cantante Cosa ci canti Jamma? Estate dei Negromari Ah infatti Questa tra l'altro è la prima puntata di Primavera Esatto E giustamente ci canta estate Lui è già un pelino più avanti Pensa qualcuno avesse cantato Primavera di Marina Ray Avrebbe fatto un successone Invece è arrivato lui Estate va bene Allora noi ti facciamo accomodare di là Corri E' l'appello E' vero l'appello Appellati Appellati ai nostri concorrenti Ok pochissimi secondi per poter fare l'appello A tre Shuffling 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 Eh dialetto Tieni guarda Vai vai Ci vogliono questi Vieni qua Ecco Ciao ragazzi Votatemi Yeah fratello Alziamo le mani Yeah Questo è un drogato Non è un Tra l'altro quando ho stato le braccia Mi è arrivata una puntata da dietro Yeah fratello Votatemi No gli occhiali no però Vai Esatto Vai Ciao ragazzi Votatemi Ti si stanno appannando gli occhiali Non vabbè Ok allora a questo punto Direi che E' stato Sufficientemente Esaustivo E quindi lo possiamo far accomodare di là Dai I nostri tecnici Che lo microfoneranno E ci faranno ascoltare Che canzone ha detto che canta Fabio E' stata E' stata 2 a 0 1 a 2 Fabio sei veramente patetico Sembro Ti ricordi quel film Come si chiamava Raimen No A me ricordavi tanto quello No quel film dove Lui gli metteva le cuffiette C'era C'era la musica Niente Era sempre Raimen Votatemi Giomale Rossi In bilico Tra santi e falsi dei Sono retto da quell'insensata voglia D'equilibrio E resto qui Sul filo di un rasoio Ad asciugar parole Che ho già scritte e mai dirò Non senti che entrimo mentre canto Nascondo questa stupida allegria Quando mi guardi Non senti che entrimo mentre canto È il segno di un'estate che Vorrei potesse non finire mai In bilico Tra tutti i miei vorrei Non sento più quell'insensata voglia D'equilibrio Che mi lascia qui Sul filo di un rasoio A disegnare cabriole Che a mezz'aria mai farò Non senti che entrimo mentre canto Nascondo questa stupida allegria Quando mi guardi Non senti che entrimo mentre canto È il segno di un'estate che Vorrei potesse non finire mai In bilico Tra santi che non pagano E intanto il tempo passa e passerai Come sai tu In bilico E intanto il tempo passa e tu non passi mai Nascondo questa stupida allegria Quando mi guardi Non senti che entrimo mentre canto È il segno di un'estate che Vorrei potesse non finire Vorrei potesse non finire Vorrei potesse non finire mai Should I Finire mai Should I Finire mai Gian Maria Rossi Bravo 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 Vorrei potesse È il Giuliano che dovrà nascere È vero No Ilaria scusa Laura Laura tu Giuliano perché pensavi a Giuliano dei Negri Amaro Quando No Assolutamente Gian Maria con questa canzone ha voluto suggerirti il nome Giuliano Quindi Giuliano Abbiamo per adesso Giuliano 1 Federico 0 Mi dispiace per il marito di Laura Vabbè Se no potresti chiamarlo Gian Maria Rossi Tutto attaccato Gian Maria Rossi Ok Gian Bene Ok Sentiamo se è ok anche per la nostra Giulia Andiamo subito con Paolo Giovannetti Buonasera voi Pronto? Ci siamo salutati? Eh sì sì Prima ci siamo salutati Sì 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 Assolutamente Scusa Paolo Stai dietro il microfono Più dietro Nascondi tutta la faccia Ecco Ecco meglio Volevo dire Che Gian Maria ha cantato molto molto bene E è rimasto così impressionato Il grandissimo Vitone Dei teppisti dei sogni Eccolo qua Vitone cantava in questo gruppo E Vitone perché è Vito No ma come ho già detto Era molto grande Quindi Vitone Grande Vitone Ecco E ha detto che lui sta cercando Un sosia per dar contro ai negro amaro Per un gruppo Che si chiamerà i bianco I chiaro dolce Mi sembra una roba del genere I chiaro dolce I chiaro dolce Sì In composizione a negro amaro Ecco È una battutona È veramente una battutona E volevo dire che Vitone Ha detto che Tu potresti fare il caso suo Non l'hanno capita Però No no l'abbiamo capita E' meglio Ci siamo trattenuti Abbiamo ostentato indifferenza Non a caso L'hanno capita perché era molto difficile Questo è veramente molto difficile Voi con una scolarità bassa Fate fatica a capire certe cose Vabbè Solo perché era la quarta elementare Così tanto Pensavo all'asilo Bene 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 Andiamo dal nostro Gianni Broccoli E bravo Gianma Sei di Roversano A Roversano c'è una manifestazione Che si Che si chiama Te chi c'è te fio Esatto E te chi è che c'è fio So A so i fio L'admonichin Admonichin? Yes Ah Monichin era quello che portava via I sac la mondezza Ma ancora Ma invece So i fio L'adsergio Sergio Sergio No Sergio De Pritz Perché Ussi può anche sbagliare Sergio Adbroquer Dove siamo A sto amore No è In zil per la Romagna Voi non capite Dopo ne parliamo fuori Fuori onda Scusa Gianni Ma perché parli nel rubinetto? Perché è questo che Dà l'amplificazione a voi Esatto Come i barottini dello yogurt Come siamo messi di qua Da Montelgallo Un caloroso saluto Alla birro La tua Fans Numero Uno Aurora Fabio Andrè Andrè Quante lungo Siete Bravissimi Ciao Aurora Ciao Aurora Ciao Aurora Gian Maria Hai cantato Hai cantato benissimo Hai giocato l'asso Per me hai giocato il jolly Non l'asso Ok E quindi Carte a caso Perché io non t'avrei mai dato Così bravo Io non t'avrei mai dato Così bravo Bene E quindi quando vuoi giocare ai cavalli Non l'avrei mai dato Vincente a lui Invece stasera ha giocato bene 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 Anche il cavallo che indossi Per me Per me ha montato uno zoccolo Con molto grip È possibile È possibile Una mescola morbida Ok Gian Maria Allora andiamo con la nostra quota rosa Silvia Stefanini Una volta agli occhiali L'altra volta no No ce li ho qui eh Perché adesso finisco la frase Mettili perché hai quello charm Che piace molto Sembra molto Sandra Mondaini Però dai No 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 Hai quello charm Che piace a Matteo Drudi Che ti sta commentando Ah non lo so Commenti Commenti che arrivano da Facebook Di gente che sta schiumando Tra l'altro Silvia Puoi chiedere al Maggiordomo Se ci porta da bere? Maggiordomo fa un po' le prende Perché sta chiantando Con 60 donne Contemporaneamente Ecco si imbirrisce E poi lo charm Cade proprio sotto i piedi Allora Giammaria Abbiamo incominciato Giammaria Sì di Giammaria 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 Vuoi già giocare a tennis? Stasera non mi rimedio Paolo smettila No aspetta Aspetta Hai salutato il cavolo? Chi è? Il cavolo Quello che gioca a tennis Come te Il cavolo? Chi è che devo? Allora Praticamente Giammaria È stato bravissimo Secondo me Ha scelto un brano Molto Molto Deciso Per questa volta Rispetto all'altra volta Piaciuto? No è stato intonato Molto intonato No in questa qui Veramente Non hai fatto nessuna stonatura E sei stato molto grintoso Mi sei piaciuto Bravo Bravo Da quando è stato in Germania Giammaria è un'altra persona È vero A forza di crauti E birra Bravo Giammaria Benissimo Benissimo Allora grazie Giammaria È arrivato il momento Caro Fabio Io ti vedo bellissimo Questa sera Grazie anche te Andrea Stai veramente bene Con quella bellissima maglietta Ma dove l'hai presa quella maglietta? Questa maglietta Sono andato a Viserba di Rimini A Emporio 90 Eccolo qua Il nostro logo bianco-rosso E Emporio 90 In via dati 90 A Viserba E da Emporio 90 Puoi trovare le marche più prestigiose Dell'abbigliamento giovane Esatto E perché se vedi noi Pensi subito giovane È vero Guardate Guardate Guarda che giovinezza Guardate la giovinezza La primavera Che trionfa sobrana Ma soprattutto guardate qua Che gioventù sprecata Ecco A Emporio 90 In via dati 90 Viserba di Rimini Grazie mille Ciao Perci il vestito Perché senza di te Saremo stati mutanti E lo spettacolo sarebbe stato Veramente Raccapricciante Molto raccapricciante Ma Andrea Permettimi Permettimi Un applausone Per i cantanti Che stasera Si sono esibiti Eccoli qua La nostra Laura La nostra Laura Puzzone Un saluto Un saluto Laura E poi E poi Ilaria Fabri Cautar E Gian Maria Rossi Bravi 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 E Jessica Ma per me Jessica Si è entrata di diritto Nello staff Cos'è? Lo state facendo? Abbiamo anche le risate Finde stasera Gente Gente Ilarie Allora 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 È arrivato il momento Di cambiare Completamente Atmosfera Ed entrare Nel momento Della scheda Che scheda? Scusa Della Sorpresa Ebbene sì Ebbene sì Cari amici Finalmente Possiamo testare I nostri cantanti Non con i loro pezzi Che si sono preparati Durante mesi Mesi Giorni Ma li ascolteremo Con una canzone Allora Perfettamente sconosciuta E quindi Li metteremo Sotto torchio Allora Perfettamente sconosciuta Proprio sì E allora È arrivato il momento Di chiamare Certo Si Si dice Allora Ondersi come suole Come suole Delle scarpe Perfetto Allora è arrivato il momento Di chiamare qui La prima concorrente in gara Che niente poco di meno Trattasi di Cautar Cautar Che è salutata Alacremente Dal nostro Matteo Drudi Ti saluto Matteo Drudi Esatto Vuoi salutarlo? Ok Lui ti saluta E si duole Del fatto di Non averti potuto Sentire cantare Ma Siccome ti conosce Sa che avrai cantato Stra benissimo Allora è arrivato il momento Di cimentarti Te Sia Sia te che loro Con un nuovo Brano Che voi non conoscete Che probabilmente Non avete mai cantato Ma forse si Sotto la doccia Avrete cantato Di sicuro Fabio Posizioniamo il monitor In modo che la nostra Cantante Cautar Possa vedere Benissimo Il testo di 50 special Guarda Cautar Come tesa Saluti Cremonini Non te ne voglia Non te ne voglia Non te ne voglia Chissà se ci sta guardando Cesare Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi se è una Vespa special che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma la Vespa è una donna non ho, ho una Vespa domenica e già è una Vespa, mi porterà, mi porterà, mi porterà fuori città, fuori città, fuori città. Ok, 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 ok. Fabio, dove sei andato? Fabio non ritorna. Era andato in cantina. Laura, 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 Laura ho acceso adesso, adesso Cautar mi mena. Comunque, caro Matteo, puoi guardare la puntata su YouTube da mercoledì, ok? Laura, sei pronta? Ce la fai in spagnolo? No. Facciamo in italiano. Allora, la mettiamo dall'inizio, da quando attacca? No, come dall'inizio? Dall'inizio, così l'abbiamo imparata tutti. Vai con la base! Perché mi piace l'intro. La super classifica show, Laura Puzzone. Ok, Laura. Vespa e truccate, anni sessanta, girano in centro, sfiorando i sessanta, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro, attaccata a una targa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, sei una vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, sei una vespa special che ti toglie i problemi. Ma la scuola non va, ma una vespa, una donna non ho, o una vespa domenica è già, è una vespa mi porterà. Mi porterà, mi porterà, mi porterà, mi porterà... Fuori città 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 Ok la mettiamo in pausa la base Così ripartiamo dal di qui Allora chi è il terzo concorrente Ilaria Ilaria salta al pezzo la scuola non va Sentiamo Ilaria come si comporterà Sei in fuori città Fuori città Professori domani è fuori città E non può essere interrogata Fuori città Fuori città Esco di fretta dalla mia stanza Marcia in granalte Dalla prima alla quarta Devo fare in fretta devo andare a una festa Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa Dammi una special L'estate che avanza Dammi una Vespa e ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro Con le ali sotto i piedi C'è una Vespa special che ti toglie i problemi Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi Sei una Vespa special che ti toglie i problemi Ma la scuola non va Ma una Vespa una donna non ho Una Vespa domenica è già E una Vespa mi porterà Mi porterà Mi porterà Fuori città 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 E' un vattusso e mezzo Quando sei alto? 1,82 Fai vedere Siamo alti uguali dai No fa vedere E' perchè ho il ciuffo Scusa Sembra noi le magi Esatto Vai Vai Ok 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 Allora tu non hai una canzone che conosci Si Allora per lui la mettiamo in tonalità originale Le donne l'abbiamo alzata leggermente Però lui è l'Aprile SR Non la 50 No io ho la Vespa 50 special veramente Tu hai la Vespa 50 special Colore? Blu con la sella bianca Wow Se l'hai parcheggiata qui fuori te l'hanno già zanzata Però la sella non mi tiene lo sporco bianca eh Ah vabbè Allora io prima di far cantare Prima di far cantare il nostro Gian Maria Si Che lui la cambia Non è che la lava la cambia Cioè è figlio di uno scienco Cioè ha un pozzo di soldi La sella la sella Esatto Ehi Hai la sella sporca Cambiala con solo i 600 euro Avrei una sella nuova Esatto Io pensa ogni settimana cambio la macchina Ah Vabbè È figlio dello scericco di San Mauro Pasco Vabbè È ricchissimo vostro babbo No Eh Non si è buttata via Non si è buttata via Allora Allora Stavamo dicendo Stavamo parlando di Gian Maria Io volevo fare però un piccolo ringraziamento A chi? Nessuno si è accorto di nulla Perché è stato magistralmente bravo Cioè questa sera Eh C'è stato un cambio d'ordine in regia Il nostro Francesco Palieri questa sera non c'è È in vacanza E quindi è stato degnamente sostituito dal nostro Samuele E poi vediamo là sullo sfondo il nostro C'è il nostro Paolo Paolo Mariotti Ecco Le risate ci sta Allora scusa Ecco il nostro Paolo Mariotti Ma c'è anche Massimiliano Stacchini Che all'occorrenza è un regista di un altro programma Che è venuto qua E che è venuto qua a dare una mano C'è Massimiliano? No Non c'è Ciao Massi Ciao Massi Ringraziamo il nostro staff tecnico Guarda lo riprendo io E abbiamo il nostro Cameraman Guarda Alberto Albertozzi Esatto Questa sera ci siamo fatti le presentazioni E così siamo a posto Neanche fosse l'ultimo puntato Allora lui si sta pisciando addosso E si sente anche un po' dall'odore Eeeh Sto scherzando Allora sei pronto? L'hai già cantata questa canzone? Più o meno Più o meno Più o meno l'ha cantata Sentiamo se più o se meno Con Giammaria Rossi Vai Vai Giammar accendi la Vespa Accenta Ecco sei già scordato come si accende Mitigo Samu Cosa è... Minabo sulla candela Vai Vespe truccate Anni sessanta Girano in centro Sfiorando i sessanta Rosse di fuoco Comincia la danza Di frecce con dietro Attaccato una targa Dammi una special L'estate che avanza Dammi una special E ti porto in vacanza Ma quanto è bello Ma quanto è bello andare in giro Con le ali sotto i piedi Sei una Vespa special che Ti toglie i problemi Ma quanto è bello andare in giro Per i colli bolognesi Sei una Vespa special che Ti toglie i problemi La scuola non va Ma una Vespa La donna non ho Ho una Vespa domenica già Già E una Vespa mi porterà Mi porterà Mi porterà Mi porterà Mi porterà Fuori città 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 Io sono spiato Canta! Cosa fai? Prima la quarta Devo fare in fretta Zlè zlè Canta! Vorrei fare un giro prima sulla mia Vespa Dammi una Vespa Dammi una Vespa L'estate che avanza Dammi una Vespa E ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro Con le ali sotto i piedi Sei una Vespa special che Ti toglie i problemi Ma quanto è bello andare in giro Per i colli bolognesi Sei una Vespa special che Ti toglie i problemi E la scuola non va Ma una Vespa E una donna non ho Non ho una Vespa Domenica e già E una Vespa mi porterà Mi porterà, mi porterà fuori città 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 Città Scusa Mi sono fatto un po' prendere dell'entusiasmo Ok Diciamo che questa sera ci siamo veramente divertiti Grazie ai nostri cantanti E' stato veramente molto molto bello cantare insieme a voi E questa sera mi sono veramente divertito A fare le controvoci Fuori città Mi è arrivato un messaggio per quando abbiamo cantato insieme a Giammaria Ti puoi togliere un po' di reverbero? Ok Quando abbiamo cantato insieme a Giammaria Mi è arrivato un messaggino che ho scritto Sembravate i Re Maggi I Re Maggi sono noti per le loro canzoni In cacofonia Però loro cantavano il cammello special Esatto Ok sentiamo la nostra giuria Cosa pensa di questa ultima esibizione Allora ricordo anche voi da casa che sono gli ultimi istanti Per poter votare il vostro cantante preferito Al 334 39 22 995 Mandateci anche i vostri commenti I vostri messaggi Le vostre curiosità E noi risponderemo Un'occhiata su quello che succede qui sullo schermo E sentiamo Prima di mandare gli spot Cosa pensano i nostri giurati Delle esibizioni dei nostri quattro cantanti I quattro semifinalisti Ehi Oh No Grazie Grazie Silvia per questa sviolinata Ma a questo punto è arrivato il momento di lanciare gli spot Strafactor Eccoci eccoci nuovamente insieme qui a Strafactor Il programma delle giovani voci e delle giovani promesse Esatto giovani voci abbiamo diciottenne E' già quante anni hai? Diciotto Diciotto 36 26 26 Scusa 26 Ilaria 18 E Laura 15 Ok 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 A questo punto caro Andrea Eh si Quanti minuti sono rimasti prima dello stop al telefono? Sono rimasto proprio un minuto Sono gli ultimi istanti per poter dire la vostra Attraverso gli sms Ricordiamo quello che è il numero di telefono Anzi il numero al quale potete mandare il vostro voto Che è il 334 3922 995 Questo è il numero grazie al quale potrete far passare una di queste persone direttamente in finale Lo ricordiamo La finale si terrà lunedì 16 Sempre sulle frequenze di Icaro TV 91 614 News News Rimini TV E in radio quando siete in macchina e non potete riuscire a guardare quello che succede dentro questi studi Potete farlo sui 90 MHz di radio Icaro Rubicone Altro modo per poterci vedere o sentire è www.radioicarorubicone.it o www.icarotv.com E nel caso vi siate persi la puntata potete sempre vedere la replica nel nostro canale di Youtube Basta digitare strafactor e potete vedere tutte le puntate Le ultime puntate che abbiamo fatto e anche i singoli spezzoni dei cantanti E allora è arrivato il momento di dare lo stop Tutto è pronto Mani nei bottoni Ultimi istanti 3-3-4-3-9-2-2-9-9-5 3-2-1 Stop al voto E a questo punto i giochi cari amici sono fatti Il nostro Stefano Bersani all'ufficio Di collocamento Sta raccogliendo dei curriculum a caso Sta contando tutti gli sms che sono arrivati fino a questo momento Fino al momento dello stop del televoto Allora tra l'altro questa sera chissà 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 Chi sarà il cantante Che passerà in finale Di Andrea ma siamo nel semifinale Sì sì siamo nel semifinale Veramente in questo momento se la stanno giocando Veramente fino alla fine i nostri cantanti E allora è partito il momento delle nomination Con i voti che tra poco appariranno qui sul nostro monitor di servizio Qui in studio I cantanti li vedo abbastanza tesi Allora Andrea ti raggiungo della tua postazione Un pochino un pochino un pochino Allora grande sfida i vertici mi scrivono qua sul monitor Allora tra poco appariranno qui il Apparirà qui il vincitore nonché le varie percentuali di assegnazione dei voti Ah 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 Allora abbiamo già abbiamo già Abbiamo già il credo Sì Il vincitore Sì 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 Allora Giochiamo come sempre al nostro indovina chi Indovina chi è il cantante Allora inquadriamo i cantanti Eccoli qua Eccoli qua Allora Allora il cantante Il cantante in questione O la cantantantessa O le cantatrici Le can can Le can can Il can can C'è un gran can can Andiamo su un Dai un indizio generico Un indizio generico Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Quello solito ha le cuffie Ha le cuffie Ma è certo certo ha le cuffie e quindi non abbiamo svelato granché No 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 Devo dire che il Ha il batticuore Lo vedo Lo vedo Allora innanzitutto diamo Diamo la percentuale di voto col quale è passato Che è il 44,19 per cento dei voti Non male Non male E tra l'altro abbassato anche lo spread Sì Infatti dalla Spagna stanno replicando Sì Allora C'è strafactor In Spagna Strafactor Olè Olè Allora indossa i pantaloni Aia 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 Ecco Ecco se n'è andato Se n'è andato anche il pantalone Ecco 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 Allora potrebbe essere forse Ilaria Forse Cautar con la pantacalza La pantacalza La pantacalza Cioè Come si chiama? I leggings I leggings Mia mamma le chiamava pantacalza Andavano nel 1982 Ok Infatti mia mamma in quegli anni lì faceva faville E poi potrebbe essere Gian Maria Bah Chi lo sa Diciamo che Svegliamo un altro elemento che Convergerà ulteriormente il cerchio E' uomo E lui è Gian Maria Rossi Gian Maria Gian Maria è il nostro cantante votato da casa con il 44,19% dei voti Seguito da Laura Puzzone con il 34,88% E poi Ilaria Fabri per finire con il 10,47% a pari merito E il 10,47% anche Cautar Quindi lo stesso numero di voti per voi Pensa che Gian Maria ha venuto la Vespa per avere voti vero? Esatto A questo punto passiamo la palla ai nostri giurati Allora parto io Parto io e io dico Cautar Cautar un voto Cautar un voto Paolo, Paolo Giovannetti Allora questo giro è stata veramente dura E E ribadisco Io sono favorevole al doping E quindi voto Ilaria Fabri Ilaria Fabri Ilaria Fabri Attenzione 1 a 1 A questo punto il nostro Gianni Con la sua giacca di pony C'è da ridere qua Tu dici il secondo finalista eh Eh sì Intanto il nostro Gian Maria è già in finale Sì 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 Ecco io E' già in finale lui è a posto Lui se ne frega di tutto Te Gianni fai il patacca ma mandi uno in finale? Sì ah di Mi pagherà una mangiata di pesce Il problema è l'altro che ti righerà tutta la macchina Ma sì ma tanto è tutta rigata Non ci faccio neanche caso Vai Allora io Viste le doti tecniche Di come tiene queste benedette note Sia le alte sia le basse Perché io ci guardo queste cose qui capito Sono un somaro ma queste cose qui ci guardo Io do il mio voto a Ilaria Fabri Ilaria Fabri Allora accedono Vola in finale Vola in finale Vieni vieni Gian Maria Eccoli qua i primi finalisti di Strafatto Bacciatevi Bacciatevi pure Magari potete che mettermi insieme Così facciamo anche una puntata No io sono fidanzata Ma chi se ne frega Lo lascerai Tu Gian Maria? Noo Noo Benissimo Il fidanzato di Ilaria è finito Allora noi ci rivediamo direttamente con loro il 16 Mentre settimana prossima tutti qua insieme a noi Per la seconda puntata di semifinale di Strafactor Ciao Ciao a tutti Andrea Sarti Fabio Caldani Ciao 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 E' da l'atada d'un tiquet, qui m'ha vest, qui m'ha vest, imputeva l'amiga d'ell, canxerament, 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 canxerament. E' da l'atada d'un tiquet, qui m'ha vest, qui m'ha vest, qui m'ha vest, imputeva l'amiga d'ell, canxerament, 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 canxerament.